Major. Ah, meno male. Come? Occupare la scuola. Sì, capisco, sì. La riunione dei genitori è già fissata. Sì, nel pomeriggio. Li ho convocati tutti quanti, donna Raquel. Va bene, allora l'aspetto. Che cosa succede, signor Pineiro? A mali estremi, estremi rimedi. Valchieria, va di classe in classe e avverte che le lezioni sono sospese. Ma perché? Oggi è un giorno normale, signor Pineiro. Di che possono andare tutti a casa. Se mi fanno domande, cosa dico? Tu di che abbiamo una riunione molto importante dei professori. Vai, in fretta. Va bene, va bene, vado come vuole. Un altro giorno se ne va Il primo amore L'ansia Fra le stelle Nel sole blu Cerco se adesso Ci sei tu Dietro le nuvele Il cielo Ma come grande e inmenso il cielo Per un ragazzo come me Che non si arrende Che non si arrende vai Il cielo Ma come azurro è inmenso il cielo Che sta passando su di noi Fermare il cielo Che non si arrende vai